no non dovete riparare però è una pelle pulso mi ha uccisi tre ragazzi ho fatto cannoniera per le tutte le zone quindi posso notare a sparare questa morte io la nave la vedo volare in cielo è morta comunque è morta perché la vedo volare in cielo no la nostra nave non loro la nostra nave è volata in cielo col tu che non sento più